Allora, non vedete l'ora che arrivi la prima regata? Assolutamente sì, ormai siamo vicini, manca una settimana e questa settimana che sta passando l'abbiamo trascorsa testando cose nuove e lunedì dovremo consegnare la configurazione di stazza quindi decidere tutti i dettagli dell'imbarcazione una volta fatto questo ci butteremo a capofitto nell'allenamento in racing mode come dice Max, quindi spingeremo tantissimo in acqua sulle partenze, sulle manovre per arrivare pronti sabato in forma Com'è l'emozione che sale di un evento così importante, tra l'altro con un sacco di attenzione intorno? Sinceramente qua devo dire che il team lavora come al solito e dovremo preparare la regata come al solito, non sarà molto diverso rispetto alle regate passate abbiamo sia nelle semifinali che nelle finali avuto delle regate dentro e fuori quindi la tensione era alta comunque e di nuovo non sarà diverso qui ci divertiamo tantissimo, abbiamo molta passione per il nostro lavoro non vedo l'ora di rientrare in acqua perché le regate con la C75 sono veramente bellissime Com'è l'attesa dei neozelandesi? Come te le immagini? Da parte loro? Da parte loro di sicuro saranno preoccupati perché noi abbiamo dimostrato di essere degli ossiduri siamo riusciti a migliorare giorno dopo giorno e regata dopo regata questo loro ne hanno visto sicuramente abbiamo migliorato nel range di vento che all'inizio ci sembravano difficili quindi con più aria siamo adesso nettamente migliori la barca va più veloce, più stabile, più controllabile quindi abbiamo anche più allenamento durante le regate, più allenamento nelle partenze questi sono tutti i punti a nostro favore e penso che loro ci stanno pensando